fargli quello della moneta adesso vi farò vedere dove dovevo prendere questa moneta 2, 3, 4, 5 yo 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 bella raga sono Darky benvenuti in questo nuovissimo video sul canale attenzione oggi siamo qui come potete vedere all'aperto perché sì ho iniziato a registrare il vlog prima ma non c'era un minuto di quieti diciamo non stavamo zitti allora sono dovuto andare in un altro posto un po' più tranquillo perché sennò non riuscivo a registrare non ho il cavalletto quindi non so come fare e boh non lo so allora innanzitutto non so se vi farò vedere diciamo delle parti del video di prima ma penso che ve la ripeto perché non è durato più di tanto penso due minuti e praticamente dicevo di passare il canale di Lorenzo grafico che mi ha fatto l'intro davvero bravo secondo me se volete passare ci passate ci iscrivetevi al suo canale lascerò sotto link in descrizione adesso il microfono sto guardando ok penso non l'abbia coperto lo spero se no poi devo rifare il vlog e sono le adesso non lo so aspettate adesso sono le le 10.56 non si vede neanche e io vi dovrei fare avere il video per aspettate un attimo che metto via il telefono io vi dovrei fare avere il video per l'una e mezza cosa impossibile siccome ho la 7 mega non ci riuscirei per niente quindi ve lo farò avere oggi sicuramente a meno che non mi tradisca la connessione però dovreste averlo oggi perché è una serie di vlog che non vorrei finisse mai quella della domenica infatti continuate a sopportarla con un like e state andando alla grande e stiamo andando alla grande e altre cose è finita la scuola finalmente cioè ditemi voi quando è che l'ha finita molti mi hanno detto mercoledì ho detto mercoledì cosa io non c'è lo zoom automatico che mi tradisce no è mercoledì non si può meglio sabato è meglio finire mercoledì è il giorno più brutto per finire una scuola vabbè che poi io manco l'ho finita ma lo sto dicendo così per dire perché chi come me è in quinta superiore sa già che ce n'è ancora un pochino da fare e ovviamente c'è anche chi sarà in terza che dovrà fare anche lui qualche settimana in più poi chi sarà in terza superiore e alcuni anche in terza media no è il contrario terza media e alcuni in terza superiore e sì ogni tanto sentirete delle macchine che stanno girando con i maggiolini anni 80 no come direbbe anche se non si sa neanche se c'erano però e come direbbe come direbbe montesi e no vabbè a parte gli scherzi è una bella giornata come potete vedere oggi non so io l'ho fatta all'aperto perché dovevo decidere se farla da un'altra parte oppure andare fuori ho detto dai vado fuori sti gran cazzo tanto dobbiamo fare un vlog che uscirà in ritardo no vabbè vi devo dire un'altra cosa ma mi sono ovviamente scordato perché cioè io sono qui come un fesso cioè poi come un fesso no come un deficiente a tenere una Sony in mano che non è leggera no siccome è una videocamera abbastanza pesante e fra un po' il braccio ci molla fra un po' casca casca anche la videocamera così e nulla allora non so se ve l'ho fatto vedere ma all'inizio del video ci dovrebbe essere un intro abbastanza strana no cioè che poi non è neanche un intro però cioè non l'intro che mi ha fatto l'editor l'intro che mettono di solito inizio video youtuber no che è quella dove c'è dark samu dark blizzard dark samu forse e doveva uscire oggi anche quel video lì su facebook però non è uscito se volete vederlo il video intero se volete vedere l'intero video mettete mi piace alla pagina facebook che adesso non lo so però in teoria dovrebbe arrivare domani se non sbaglio perché devo già fare un botto di video anche per domani devo fare dei video sono indietra bestie lasciamo stare però con l'esame tutto davvero sono proprio incasinato ci provo ovviamente io come al solito quindi mettete mi piace alla pagina facebook che molto probabilmente in questi giorni vedrete il video è spettacolare io lo consiglio e vi devo dire un'altra cosa l'ultima attenzione allora sto vedendo che la trisurina non vi sta piacendo così tanto non so se è tipo a parte come su un episodio però non so se è perché o non vi piace oppure quando è uscita non è arrivata a tutti in feed anche se penso che sia una cazzata secondo me è arrivata a tutti quindi stavo vedendo se sostituirlo oppure provare a continuarlo adesso uno o due episodi forse li farò sicuramente per vedere come va se poi nessuno se la caga me la gioco da solo per cazzi mia allora niente l'ultima cosa invece che dovrei dirvi è delle serie, le serie estive e invernali è un'idea che mi è venuta in mente guardando intanto qua passano 10.000 macchine si cazzi è una serie che mi è venuta in mente adesso non mi ricordo guardando chi o cosa però mi è venuta in mente una cosa abbastanza figa no allora voi come ben saprete ho due serie una di minecraft ita vabbè minecraft per ps4 e una per la play ditemi cosa cambia delle due oggi non so parlare oggi è proprio un bellissimo giorno per registrare una per il pc e una per la play allora quella per la play l'avevo stoppata per iniziarne una sul pc però pensandoci bene cioè avevo sempre detto che sarebbe ripartita prima o poi e secondo me questo qua è il periodo giusto me lo sento no e praticamente mi è venuta in mente una cosa no siccome io faccio minecraft no per il pc e adesso va anche abbastanza di moda ho detto per non darvi troppo minecraft per pc io ne porto un po' anche per la play so che non cambia molto cambiano alcune cose però non cambia molto quindi mi è venuta in mente una cosa io in estate da tutte le serie estive che adesso non mi ricordo fin quanto vanno forse ad ottobre non mi ricordo penso ad ottobre fino ad ottobre vi porterò minecraft per ps4 e attenzione ovviamente sono la serie tipo minecraft ita minecraft così dove voi mi dite cosa dobbiamo fare poi lo facciamo insieme prima ovviamente dovremmo sconfiggere land l'ender l'ender dragon mi stavo a scordare una volta sconfitto l'ender dragon si farà come qualsiasi serie di minecraft ita facciamo delle cose molto più fighe noi seguitemi facciamo delle cose molto più fighe noi no vabbè e farò questo una volta arrivato ottobre inizierà la serie invernale quindi quella su pc secondo me è una cosa abbastanza figa no e una volta finita quella invernale si ripeterà il ciclo così andiamo avanti cioè secondo me viene una cosa abbastanza figa no anche se so che sulla play è più scomodo ma riga riga sti cazzi così per variare un po' non possiamo mica fare sempre la stessa roba se no tanto state sicuri che di ctm ne avrete tutte sul pc ovviamente anche lì stavo pensando di fare le serie invernali estive alternare però non sono molto sicuro perché è un po' difficile siccome le ctm durano molto oppure durano poco quindi non riuscirei a farne durare dei mesi una ctm a parte che nessuno dopo ce la cagherebbe più secondo me però ci si può provare comunque ragazzi il video è finito spero che vi sia piaciuto so che questo video qui è stato un po' girato un po' alla cazzo di cane ma spero comunque che vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace per supportare la serie e per supportare me noi come sempre ci vediamo al prossimo quello che ve l'ho detto e nulla da dare che c'è tutto bella non posso battere le mani ho già anzi aspettato e nulla da dare che c'è tutto bella